Benvenuti nel mio sito. Sono Maria Cristina Massabant, sono laureata in interpretazione simultanea e lavoro da quasi 30 anni nel settore congressuale. Sarà per me un piacere contribuire con la mia esperienza, professionalità e competenza al massimo successo del vostro evento. Non esitate a contattarmi. A presto! Grazie a tutti!